A tenere banco è il caso di dirlo al Missiconi Belisario di Pescara e la polemica proprio nel giorno dell'apertura di oggi, anticipata rispetto al 12 settembre dell'anno scolastico. Da un lato la dirigente scolastica e il presidente della provincia, dall'altro i genitori, oggetto del contendere la scelta per i 150 studenti del musicale che frequenteranno le lezioni pomeridiane due a settimana per ogni singolo alunno, non più nella sede di Viale Kennedy ma negli spazi di Via Einaudi. Motivazioni a confronto quella della dirigente scolastica Raffaella Cocco e dei genitori per bocca di Alessandra Storci. Le motivazioni sono molteplici, ci sono dei problemi che sono di lunga data e sono i problemi derivanti dall'impatto acustico proprio perché la sede del Missiconi è in una posizione proprio con poca distanza tra gli stabili circostanti. Ci sono stati anche dei problemi legati al sovraffollamento della sede Missiconi che ospita 650 alunni per cui anche gli strumenti, anche il posizionamento di molti arredi come ad esempio un pianoforte a coda in palestra e varie situazioni hanno fatto richiedere ulteriori spazi. La provincia ha cercato anche di trovare dei locali alternativi in altre scuole. Il problema è che contemporaneamente servono di pomeriggio circa 23 aule. Quindi la mattina gli alunni saranno come sempre, come lo scorso anno e gli altri anni, a fare lezione in Via Passo Lanciano, lì nel palazzo della provincia. Dopodiché la provincia attrezza una navetta che li porta nella sede di Via Einaudi. Ora noi abbiamo avuto alcune proteste da una parte di genitori, però devo dire che abbiamo avuto anche il sostegno di tantissimi altri genitori. La dirigente parla poi di trasporto pubblico con la tua. Stiamo lavorando molto con gli orari del musicale per fare in modo che ciascun alunno, soprattutto gli alunni pendolari, che sono la stragrande maggioranza, abbiano le lezioni nella prima parte del pomeriggio, in modo da non ritornare troppo tardi alle loro abitazioni. Avevamo convocati i genitori per un incontro a cui non si sono presentati, ma per i genitori stessi le cose sono andate diversamente e vanno giù duro con la scelta di quest'anno. I disagi principali sono legati ai trasporti, perché i nostri studenti che già vivono una situazione precaria, perché effettuano le lezioni della mattina in una struttura non adeguata fatta di pareti di cartongesso, che è la sede della provincia in Via Passo Lanciano, poi vengono trasferiti, penso con una navetta, in via e in Audi e poi da lì avranno dei tempi morti. Poi dopodiché inizieranno alla spicciolata le lezioni di strumento. Le lezioni di strumento avvengono in questa maniera, che ogni ragazzo ha una lezione singola di strumento. L'anno scorso gli ultimi studenti uscivano alle 20, quindi dovranno raggiungere la stazione centrale utilizzando mezzi pubblici. Con gli strumenti pesanti ricorda che la maggior parte degli studenti è minorenne. La dirigente scolastica ci ha convocati in provincia, volevamo fare intervenire anche i docenti dell'area musicale, perché anche loro hanno chiesto questo, ma il tutto è avvenuto in un giorno in cui i docenti stessi e la dirigente nera conoscenza avevano gli scrutini per gli esami finali di riparazione, quindi impossibilitati a venire.